Ritorna a Sassari dopo il successo dello scorso anno FameLab, contesto internazionale di comunicazione della scienza che coinvolge centinaia di giovani ricercatori in tutto il mondo. L'Università di Sassari avrà il compito di organizzare la tappa regionale articolata in due giornate. Il 15 aprile si terrà la preselezione, il 29 la selezione in finale. Le iscrizioni sono aperte e scadono l'11 aprile. I due vincitori accederanno alla finale nazionale di giugno a Catania. I più meritevoli potranno conquistarsi il diritto di galeggiare nella competizione internazionale. Tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni sono sul sito Unis al link unis.it slash FameLab. FameLab offre a giovani ricercatori e studenti, in possesso almeno di una laurea triennale, la possibilità di parlare in pubblico per mettersi alla prova come divulgatori di tematiche scientifiche. La sfida è quella di sviluppare una narrazione convincente e appassionante in una presentazione di soli tre minuti. Le presentazioni saranno valutate da una giuria qualificata nel rispetto delle restrizioni sanitarie. L'Università di Sassari è una delle otto sedi nazionali per le selezioni di FameLab 2021. Partner di FameLab Sassari Agris Sardegna Porto Conte Ricerche CNR Area della Ricerca di Sassari Accademia di Belle Arti Mario Sironi Cagliari Festival Scienza Associazione Scienza-Società Scienza Forum delle Associazioni Studentesche Unis Tra i media partner anche Canale 12, Radiolina e Saradiolina Grazie a tutti i media Grazie a tutti i media Grazie a tutti i media